Gli ultimi tragici sbarchi a Lampedusa non fermeranno le migrazioni, alimentate dall'emergenza umanitaria e dai conflitti in Siria e in Egitto. Gli immigrati che tenteranno la traversata con il sogno di una vita migliore, con il sogno di dare un futuro ai propri figli, ci saranno ancora. Ogni giorno, a largo delle coste siciliane, vengono recuperati i barconi con un carico umano di speranza e di disperato bisogno di aiuto. Il sistema di accoglienza italiano, ormai al collasso da anni, non ce la fa più a gestire il flusso migratorio e proprio in questi giorni così tristi, con i sub ancora impegnati a cercare le decine di dispersi dell'ultima terribile tragedia, che torna alla ribalta l'utilizzo del villaggio provvisorio di San Giuliano, laddove ci sono le casette di legno che potrebbero dare un tetto a mille profughi. Sono locali da sistemare, stando a una relazione consegnata dai vigili del fuoco, sono ad adeguare alle norme antincendio. I sindaci del territorio hanno chiesto di poter ospitare un numero inferiore di immigrati rispetto ai posti disponibili, per non creare disagio alla popolazione locale, quella stessa popolazione che in gran parte è favorevole alla accoglienza dei profughi, anche per ricambiare quella solidarietà che 11 anni fa ha ricevuto da tutto il mondo in occasione del terremoto. La prefettura di Campobasso è in contatto con il ministero, che ancora non ha dato comunicazioni, ma è molto probabile che con le nuove emergenze ci sarà un'accelerata da parte del governo, intenzionato a usare tutti i posti disponibili del villaggio di San Giuliano.